Una curiosità personale, c'è qualcuna di voi incinta al primo film? No vabbè dai la rifacciamo Ruggi, cioè già sapevo già che eri incinta, cioè proprio in che alla televisione è tutto falso. La smetti di farmi partire i treni? Grazie. Attenzione, tre, due. Sentite, volevo risolvere subito un dubbio personale. C'è qualcuna di voi incinta? Tu? Tu sei incinta, come ti chiami? Barbara, primo figlio? Primo figlio? Non fate le stronze e non ridete. Primo figlio, Barbara? Senti, per capirci, hai dormito troppo negli ultimi trent'anni? Volevi due borse nuove ma non avevi soldi? Barbara, primo figlio, che carina. Hai delle amiche che ti hanno già spoilerato quello che succede in sala parto? O preferisci andare più alla cieca? Tu sei più tipa da o la va o la spacca, brava. No, perché te lo dico, ma di base la spacca. No, ma adesso non ci pensare, non ci pensare. Lo sapete qual è l'età media in cui in Italia facciamo il nostro primo figlio? a trentun'anni, quando la percentuale di fertilità è del quattro per cento, ok? E lo chiamano il miracolo della vita. Cazzo, il miracolo è che non ci siamo istinti, no? E tu sei lì e ho fatto un conto. Praticamente, se nei giorni fertili tu ciuli, 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 ciuli di tutto l'anno, ok? Va a buon fine una scopata su venticinque. Cioè, una su venticinque. Questo ovviamente se vuoi avere un bambino. Se invece non vuoi assolutamente avere figli, anzi, ti stanno proprio sul cazzo i bambini, rimarrai incinta con la prima scopata, fatta male, alle quattro del pomeriggio, tutta sudata, sui gonfiabili del Lido Graziella con Carlo, l'animatore sfigato del miniclub. Che mese sei, Barbara? Quinto mese. Allora non sei ancora in quella fase lì. Perché poi quando arriva il settimo mese, un giorno ti svegli e... E sai qual è il problema? Che non te la vedi più, no? Che poi ti dicono, mi raccomando signora, al giorno del parto mi arrivi bella depilata, e tu dici, eh, cazzo, a trovarla, no? Allora, per tentare di farlo da sola, le provi tutte. Tipo fai, metti giù dei begli specchi, no? Ci cammini sopra, fai come la marchesa che camminava sugli specchi dicendo, la vedo grigia. Oppure, sai come facevo io con l'iPhone, no? Con la fotocamera. Un po' difficile, ti scatti così. Io a un certo punto ho creato una gallerie fotografica e mi è insaputa. Poi un giorno ho partorito, sono salita sul treno con il marsupo, i bambini, i bagagli. Mi ha detto, signora il PNR, sì, un attimo, eccolo. E lei non è mai stato alla Napoli Sotterranea? Però è così. A noi donne, proprio la maternità, ci cambia il cervello, no? È vero, è uno studio. Perché voi direte, no? Tipo Barbara, adesso che è incinta, noi donne multitasking il cervello diventerà... si riduce. Cioè, proprio parte della materia grigia sparisce, giusto? Per far spazio ai bodi del bambino. Ma quanti cazzo di bodi servono ai bambini nei primi tre anni di vita, no? All'inizio, quando sei ignorante come lei, e sei lì col tuo pancione, pensi al tuo newborn, e vai solamente a comprare quell'incotone organico certificato raccolto a mano con i guanti da donne vergini nutrite con le bacche di goji, e ne compri sei, costano 32 euro l'uno, ne compri sei e dici, ma sì, ne li porto avanti per un anno. Cazzo dici? A 24 ore dal parto, dopo che avrai già esaurito la tua scorta di bodi, dopo che avrai scoperto che nella merda di tuo figlio ci sono dei coloranti artificiali, roba che se ti becca la Thunberg ti addebita il buco dell'ozono, ecco che con pacatezza, con eleganza, quella di cui noi disponiamo nel postpartum, darai la carta di credito in mano al colpevole e gli dirai, amore, voglio la Lidl, comprami un pacco da mille bodi! E lui a quel punto piccolo come il marito della regina di cuori, amore però tu avevi detto veramente che alla Lidl vendono i bodi ma sono fatti con le sostanze tossiche, non me ne sbatte un cazzo delle sostanze tossiche, anzi meglio così se avanza un bodi me lo frullo e me lo bevo! Tagliategli la testa! La maternità non ci cambia il cervello, cioè noi donne neomamme iniziamo a vedere dei pollock nei pannolini sporchi dei nostri bambini e soprattutto sviluppiamo dei superpoteri che ci invidiano anche gli Avengers! È per me? Amore della mamma, vuoi la banana schiacciata con una spolverattina di cacao al 98% ma preferisci mangiarla con i cucchiaino non con la forchetta e ti... Che tra l'altro la cosa magica di questa cosa è che ogni madre capisce il proprio, no? È presente? Tipo gli abbinamenti bluetooth delle casse. Infatti quando la mia amica mi smolla il bambino, infatti quando la mia amica mi smolla il bambino, è tia o tete, amore però non si capisce un cazzo quando parli, eh? Lo facciamo un bel giro dalla logopedista, voglio dire hai già cinque mesi, eh? Quando vogliamo iniziare a fatturare questo primo milioncino. E comunque Barbara, cara Barbara, te lo devo dire, è proprio un casino. Ed è normale, è normale che in questo momento dentro di te stia nascendo tuo figlio, insieme a lui stia nascendo il desiderio di mandare a fanculo la gente. E allora tu fallo e sentiti libera, ma l'importante è che tu ti goda a questo viaggio. Perché la gravidanza è un viaggio meraviglioso, dove ad un certo punto ti sentirai come se avessi ingoiato il bagaglio a mano. Grazie, buon viaggio. Io non ho figli, c'è la mia compagna che vorrebbe un figlio, io no. E prova a convincere, mi dice, ah ma tu saresti un padre meraviglioso. Io dico, eh tu saresti però una madre single, quindi... Lo dico per te, io non è... Ti avverto. Ma perché non vuoi un figlio? Perché? Amore, perché non è, non è il momento. Eh ma quando è che sarà il momento giusto? Quando avrò una stabilità economica. Secondo me, una stabilità economica. E mi dice, eh ma io stavo facendo il comico, non avrai mai una stabilità economica, non sarà mai il momento giusto. Oh, genius! Pah! Non è solo per questo, ma anche perché io vedo tanti genitori, antemammi e antemapà, con l'altro mio lavoro. Io faccio l'animatore di festi di compleanno per bambini, quindi ho anche un lavoro serio. E purtroppo questo lavoro non si può più fare col covid, cioè non puoi più andare in casa della gente, vestito da gnomo, a farti insultare dei bambini. Non si può più fare, che peccatone che non si può più fare, mannaggia. E col mio lavoro vedo questi genitori che fanno una fatica, ma una fatica... Me ne accorgo da quando mi chiamano le mamme per fissare la festa di compleanno. Mi chiamano, mi fanno... Ciao, scusa... Ciao, scusa, tu sei quello delle feste? Io sono Babbo Natale, sono... Sì, sì, passo l'elfo, segretario. È sicuro delle feste? Sì, faccio feste di compleanno. Ma per la festa cosa proponi? Non sono cracco. Io per la festa, allora, facciamo animazione, lo spettacolo e i giochi. Spettacolo e i giochi. Ok, ok. Senti, lo spettacolo è divertente? Oh, due palle, signora, guardi. Mi cago il cazzo io a farlo, figuriamoci. Faccio un monologo russo di uno scrittore morto suicida sul socialismo. Questo è quello che faccio io. Ok, ok, quindi monologo bene. Una cosa, i giochi, nei giochi, non mi chiedono se sono divertenti, mi chiedono. Nei giochi i bambini vengono coinvolti. Chi li caga? Io arrivo, tiro due calci in culo festeggiato e faccio il solitario. E poi faccio il monologo russo. Ok, ok, bene. Quindi calcio bene. No, signora, facciamo i giochi. Basta. Come temi? Che temi avete? Guerre puniche, rivoluzione industriale e covid adesso per... No, signora, o gnomi o supereroi. O gnomi o supereroi. O gnomi o supereroi. E lei così... Volevo farla a tema pirati. E allora si attacca al cazzo, signora. Questa è la cosa... Allora mi attacca... Benissimo. Per il pagamento... Va bene, allora... Grappa, va bene. Grappa. Molto bene, va bene. Per il pagamento il denaro va benissimo. Funziona da tanti anni, usiamo quello. Ma perché fanno così? Perché fanno così? Perché non possono contare sui papà. I papà durante la festa di compleanno non sanno niente. Nulla. La posizione tipica del papà del festeggiato durante la festa di compleanno è questa qua. Non sono di qua. Mi hanno assunto da poco. Guardi, deve chiedere in direzione. Io francamente non... Qualunque cosa gli chiedi... Ma scusi, ma come si chiama il festeggiato? Qual è il nome del festeggiato? Mi ricordo che l'abbia dato il nome di mio padre. Quindi... Papà? Non ho... Adesso io non vorrei dare... Quanti anni compie? Allora, i palloncini sono a forma di sette ed educo che la cifra... Ebbè, se la torna... Ma almeno mi indichi suo figlio. Ovviamente non tutti i padri sono così, non tutti i padri sono all'oscuro di tutto. Ci sono anche dei padri assenti, che vabbè. Facciamo per...